Nel nostro viaggio di oggi, esploreremo il ricco patrimonio di Sandra Milo, un tema che va ben oltre la mera eredità destinata ai suoi figli. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Sandra Milo ha recentemente affrontato difficoltà finanziarie, gettando luce sui contorni incerti della sua eredità. Nonostante le sfide economiche, è probabile che i suoi figli, Deborah Azzurra e Ciro, riceveranno una parte del patrimonio. Sandra ha rivelato di dovere molto all'Agenzia delle Entrate, il che ha impattato sull'ammontare dell'eredità. Tuttavia, nonostante le incertezze, si presume che l'eredità verrà distribuita tra i figli e altri membri della famiglia. La sua scomparsa ha lasciato tutti sbigottiti, con attese per ulteriori dettagli sull'eredità e sulle circostanze della sua partenza. Il figlio Ciro ha espresso il suo dolore, evidenziando l'affetto familiare e l'impatto della perdita. I media sono in attesa di ulteriori informazioni su questo caso, che ha sollevato interrogativi non solo sul patrimonio di Sandra Milo, ma anche sulle sfide affrontate dalla celebre attrice. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie per il supporto.